L'Argentina ha varato una legge che dichiara l'emergenza alimentare fino al 2022, l'ha approvata il Senato con i voti di entrambi gli schieramenti. Perché la gente non mangia, è ha fame e questo dramma diventa tema di campagna elettorale. Nel paese la povertà ha aumentato moltissimo in questi mesi a causa della caduta del valore del peso, della contrazione dell'economia e del contemporaneo aumento del costo della vita. Proliferano le mense per poveri e le organizzazioni che aiutano la gente che non ce la fa più. L'opposizione, il Frente de Todos, che supporta Alberto Fernandez, aveva presentato la legge per aumentare del 50% gli aiuti. Si pensava che Macri avrebbe posto il veto alla misura che arriva a ridosso delle elezioni. Invece la legge è passata all'unanimità. I bambini non possono permettersi latte o lo yogurt. Le madri vengono per chiedere latte in polvere. Oltre 5 milioni di argentini, su 46 milioni in totale, non possono assicurarsi una alimentazione sufficiente. Ci sono un sacco di bambini che hanno bisogno e sono malnutriti. Ci sono bambini che la sera non mangiano. L'annuncio è stato accolto con gioia dai movimenti sociali, giunti in corteo fino al davanti all'edificio del Parlamento, per manifestare l'esigenza di un'approvazione immediata del provvedimento. E' un'approvazione immediata di un'approvazione immediata più grande in oscura.